allora canale bubino bubino oggi la chiamiamo così la live la chiamiamo bubino bubino stumma bubino stumma no che inglese lingua trasmissione sommato sono un caso dell'inglese fatto bubino stumma condividi facebook eh dio merda eh si è facebook bubino stumma stumma ok copia incolla pubblica incolla in un gruppo del bai della italia ps4 pubblico stumma questo è l'altro italia condividi stumma a posto bubino ok bubino bubino dobbiamo passare tutti a pc dobbiamo passare tutti a pc si vabbè ho un pc cioè pc mi devo fare pc nuova pc dovrei avere un pc prima di tutto prima di tutto e seconda cosa sai che significa non c'ho voglia un cazzo di rifarmi tutti i personaggi e killer io qualcosa già ci avevo eh ok bravo fiori metti fiori metti fiori fiori inutili fiori inutili boobiii bubino campi del bubino campi bubini c'è una trebiatrice beh ce l'ho io bene penso t'ha perso no 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 anche a te oh madonna che botta dell'agra tirato orco 2 tirato una botta di lag se te le stesse trato a spotter sia tu che quell'altro che killer già persi no 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 non venire qua no 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 non venire qua ma vedi questo semi cura scusa scusa non lo faccio più scusa si è ok ci ha perso cassata con quell'altro cassata c'è un interrotto si si sono vicino ai maiali 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 occhio c'è un generatore qua ma Zewa non ho chiesto i maiali due generatori sono quello più vicino alla porta diciamo apro cassa cassa buona faccio il tuo tempo eh ancora fa il generatore questo no ed è sicuro tutti qui festa festa grande questa grande ma perché sempre venise non fare il cazzo qua porca madosca perché perché devi accadere il cazzo qua faccio il generatore lo stesso faccio colato sotto il naso sotto il naso eh già morto appeso basement sicuro 100% oh disinescata mi spiace mi spiace ho disarmato ho disarmato la trappola della finestra sono entrato oh qua scettate qua scettate fa scettate e si è fermato qua scettate fa scettate sto al generatore sempre vicino ai maiali quell'altro 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 vicino ai maiali capito quale sto al generatore sta che sta curando la cinese lo vicino alla baracca dell'energia gubi no se tu fai questi scherzi una volta questo sicuro sicuro c'è noi noi ben così finito io pure questo sicuro c'è noi finito? si si killer non viene? cassarella su sopravvissuto camperino e pensami te nevi te apri porta io apro quest'altra porta sopravvissuto aspetta un pochino no 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 eh tu pensavi che io andavo a aprire la porta tu mi hai visto? si mi hai visto casso 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 mamma 360 wow 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 scordato come si chiama questo dimenticato come si chiama wow 360 veloce io apro quest'altra ma tu hai rimesso troppo la finestra? veramente? eh no 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 non venire qua eh no ho aperto eh ho aperto eh non venire qua eh non ci pensare proprio eh no eh 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 oi ecco eh adesso casi eh adesso casi subito eh cazzo ha preso trappo all'uscita pezzo di merda dove appendi mio amico appendi lì tu fa questi scherzi una volta aia eh vedi porco due vedi io vado via io lo sapevo che c'era il nord sto pezzo di merda eh sì molto secchietto mi schiaccio eh sì io vado se mi prendeva prima che salvavo io lo sapevo che c'era il nord sto pezzo di fango però è strano perché ha colpito il sopravvissuto mentre era nella trappola e non è uscita la notifica del nord no dai veramente ti sei fatto prendere ti sei fatto prendere coglioni eh sto cercando sì o se è sempre il totem non sta vicino a lui che cazzo sta no no ma ce l'ho stanno facendo sta caperà lì sì tranquillo però sì dici anche a lui eh ciccio non c'è non lo trovo addio dispiace dispiace no non ha messo niente qua perché ha giocato di là boom trappala boom trappala dispiace ha cercato totem non trovato dispiace una kill ha fatto con il nord basta minchia ho già a rango 18 già usato il nord già non sa più come fare pure mori giallo buttato perché frega il cazzo io ho andato via spiace 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 tanto fatto il lobby fatto il lobby questo è noid e sussurro amaro c'è proprio non li vedo sì 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 ah perciò è venuta l'uscita dove stavo io appena appesa quello perché perché eh perché con noid quello l'ho appeso prendo quest'altro e invece ho fatto 360 è andato al bar 360 veloce è assoluto è assoluto è assoluto posso attorciare andiamo 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 ah tutto 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 ma domanda Copia Auto avanzata Non c'è avanzata Qualità niente Clip Come faccio a scaricare la live? La live di ieri Come faccio a scaricarla? Ah non lo so Non lo so Penso che devo Ah no esporta C'è proprio To youtube Account Ah devo collegare il mio account con Ok Canale No sbagliato scusami Gestione video App streaming Autorizzazioni No Impostazioni Statistiche Attività Come cazzo C'è l'opzione Tu schiacci Bubino E sotto Stoom Metto lo sforzo Bubino Bubino Ecco Collegamenti Madonna Sì Eccolo qua YouTube Sì Eccolo qua YouTube No Subito 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 Prima di subito Subito I fiori I fiori I fiori Mettila Allora Un ladro Gli si è rotto il pc Non ha fatto la live Ah Dio cane Ok Che cazzo Non perdere un pc Che poi tra parentesi da poco l'ha preso Cioè Da poco l'ha preso il pc Niente Baggato Un pig decente Eccolo Non ha pure il ping decente Mi ha baggato sempre Esca Esca Tutto 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 Parappa 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 Allora C'è le fiori Noccio fiori Però c'è questo eh Questo lo metto eh Frega a cassini Io ho metto fiori brutti Capaciti proprio Marroni Schifosi Rapazzini 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 No, 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 no Allora... Stavo cercando su un coso qua... È allucinante, è allucinante... Cosa? Eh? Che cosa? No, il Twitch bot! Stavo... Stavo perdendo... Che il fatto che Makatube è stato buttato fuori per... Per Twitch bot, no? Cioè, ma... Secondo me non c'ha senso... Cioè... A 10 dollari puoi avere, 75 viewers, 50 che chattano, 1000 followers... Cioè... C'ha senso proprio, secondo me, come cosa... 50 che chattano pure? Sì, sì... 50 chatters... Che cazzo scrive? In inglese, scrivendo in inglese... 50 chatters... 75 viewers... 1000 followers... Full anonymity... Anonimato... Supporto... Uso... Uso illimitato... E canali illimitati... Mh... 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 Non c'ha senso... Per me... Ste robe qua è una cosa che non c'ha senso... Pum... Non c'ha senso... E ho tipo... Ho fatto vedere... Dove che cazzo? Ho fatto vedere... Ho fatto il giornale... La striscia... Che in America c'è... Tipo... In un centro commerciale... C'è un apparecchio... Tipo una macchinetta... Che tu schiacci... E puoi comprare i... I follower su Instagram... Si ma ripeto... E' una cosa che non c'ha senso... E' una cosa che secondo me... Non ha senso... Aspetta quella mamma... Si... Cosetta... Uh subito cassa eh... Subito... Io sto vicino a quell'altro edificio... Non... Non la baracca... Quell'altro edificio... Con i maiali dentro... Qua... La roba pesa dentro... Mi piace... Il killer vicino... Sono torce? Tu chi è? Eh... Oh... Ciccio gamer... No... Ciccio gamer no... Ah... E' venuto qua... Perché c'è il totem qua vicino... Ah... Buona... Lo sto facendo... Shhh... E ora si sta venendo qua... Ah... Mi hai visto allora... Pezzo di merda... C'è pure la caduta di Franklin... Uuuuh... Sì eh... Guarda che roba oh... Ma sai che me lo sono perso per il lag eh? Ha dato una laggata enorme oh... Ho fatto un morto stecchito in faccia... Ho trovato l'altro... Ma non laggava il lobby sto stronzo... La maggior parte dei killer... Dunque... Ecco fatto... Posto... La maggior parte dei killer fanno sempre lo stesso errore quando c'hanno i totem... La prima cosa che fanno vanno a controlla il totem... C'è proprio il modo più facile e sgamabile per fare le robe... Ok... Questo ci avrà sicuramente... Penso... Voglio sperare... Che abbia... Quella roba lì... Sì... Sì... Sta andando subito... Sì... Sì... C'è la... C'è la... C'è la... E lo usa? Sì... Però è tornato qua... È perché non mi ha trovato a me... Eh... Vabbè... No... Vabbè... Questa gente corre veramente... Non c'ho parole... Comunque lagga una cifra eh... Lagga veramente tanto... No... No... Lo sto a camperà... Eh... Si... Perché non ha visto tutti i coccidi... Beh... Io sto facendo il generatore e mi dovrebbe vedere i coccidi... Perché mi aveva visto prima... Sto a fare il generatore sulla casa... Quindi... Sì... Ok... Adesso sta andando via... Forse viene su... Sì... Arriva là un'altra volta... No... Mi faccio vedere io... Si ma non lo sa... Usa molto bene i cili... Mancano già due generatori... Eh... Vabbè... Ragazzi... Io veramente... Non è cattivare... Però... Porco Dio... Non è normale che ti fai prendere 200 volte così... Eh... Questo viene diretto da noi mo... E' infatti... Te amo... E' infatti... Mi piaccia... Si... Sto facendo il generatore... Eh... va bene non c'è pallet su una maniera no favore fammi stare tranquillo un attimo e no quanto cazzo lag però sa che mi prende bello no no dai 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 questo sta solo basso non sta facendo niente quest'altra è stato basso tutto il tempo che c'è perché perché così ecco madonna mia madonna che mongoli che mongoli ma che cazzo era ma l'ha vista si l'ha vista è rimasto fermo là il demand mi viene non lo so sei costritto a usarlo si si e rimane fermo madonna dall'altra parte della casetta c'è un genere vabbè ragazzo questo è morto sì no lo so no dovrebbe essere la seconda volta guarda niente non riesco a fargli skill check cosa che viene da te eh sì ho fatto rumore due volte perché lag vabbè ma lo tengo un po' qua se ci riesco no mi ha perso cioè stavo lì stavo vabbè meglio così ho visto Jake ho visto andato sopra la casa ma non c'ha senso quello che sta facendo lei è a una porta ok ce l'ho ce l'ho eh penso sia dall'altra parte dove stai facendo tu è quella più lontana penso ci sto eh posto quella più lontana sto aprendo tanto questo è morto vengo lì ho aperto io non riesco a capirla e ma lui viene qua eh ok ce la fai apposta non ho senso che ho più volito perché mi vedeva no 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 posso posso andiamo via io ho un sacco di palletti in faccia sto lì no 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 mamma mia mamma mia meno male che non sto prima a sapere quella no 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 posso dire guarda è inutile italiano un killer brutto vabbè però non ha camperato tornava indietro però non usava ti dava la possibilità di libero e sopravvissuto si allontanava eh erano gli altri due che erano mongoli come come sopravvissuti facevano pena cioè quello mi ha appeso quello è rimasto là vicino a me fermo mezza strada cioè vabbè non male che ti prendi è normalissimo che ti prenda mi è rimasto a fianco poi ho dato il borro è rimasto fermo sotto al gancio quando l'ho liberato che gente di essa faccia a merda che ti salvo col killer davanti senza borro o almeno la decenza di mettermi borro ma poi tutto il tempo che l'hai tenuto cioè quello è rimasto lui è stato fermo è stato fermo là dove poi mi ha appeso faceva di tempo a farti la fine la generazione di coloro lì è rimasto fermo a far nulla comunque laggava un botto veramente laggava tanto skill check non li riuscivo a fare della cura li ho sbagliati due non riuscivo a prendere l'eccellente perché me laggava bubino scarica te lo ho fatto bubino bubino macello 12 giga 12-13 giga che cazzo ci metti a scaricare te c'è la fibra pure io c'ho la fibra non ci metti niente l'ho scaricato ieri mentre streamavo e giocavo ieri sera non ci metti niente non ci metti veramente poco bubino eh bubino fortnite fortnite ma poi io posso venire nella tua base certo no si si e io nella tua tutte le costruzioni che fai nella base le trappole le cose rimangono salvate mentre quelle delle missioni che fai eh no naturalmente che sono missioni quindi però quelle che fai nelle costruzioni che fai nella base rimangono che mi spesi accusato di molestie sessuali 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 fa outing gay così così no ma sta sfuggendo di mano sta situazione che comunque ogni tanto in tre secondi esce qualcuno che abuso fai abuso sessuali come quell'altro in america che per l'amor di dio è ambra ambra angiolini che l'ha denunciato poi l'ha denunciato altre venti attrice tra cui pure è angiolino jolie sono angiolino jolie e ambra angioli tutto jolie ormai cioè va di modo no 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 li prendo no 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 sì sì me ne frega un cazzo di vedere i generatori sto fermo tutta la partita quando è finita la partita comincia a giocare potrebbero giocare anche così che stanno fermi tutta la partita e poi quando fanno l'ultimo generatore inizia a giocare tanto se devi giocare così sì ma te vedrai casino che succede con Kruger ma che esce Kruger eh ma non per i perk non per il killer in sé per sé che comunque è facilmente counterabile non è niente di troppo OP come la gente dice secondo me il problema sono i perk che ha c'ha il perk che ti chiude l'uscita cioè te immagina te immagina te immagina il perk che ti chiude l'uscita che non puoi uscire viene rilevato si vede Laura se stai all'uscita con Noed cioè ma quello dura un minuto ho capito ma te appendi uno vai là con Noed quanto cazzo ci metti a stendere tre cristiani con Noed no quello non viene usato secondo me viene usato quello delle porte gli dai sei colpi aumenta di trenta secondi la porta può essere anche sì sicuramente però sai anche che cosa significa eh per me useranno quello delle porte per me useranno molto molto di più quello delle porte che ti bloccano le porte secondo me useranno molto di più quello ti bloccano le porte se mettono il Noed e vengono a fare la mattanza sull'uscita che buttano a terra duemila cristiani secondo me uno lo addormenti e non lo ferisci lo vedi per tutta la mappa sì 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 a parte che non si sveglia vabbè a parte che comunque tu ti puoi svegliare anche da solo sì ma se sono finiti i generatori e tu non sei ferito come cazzo ti svegli se non trovi nessuno non ti svegli ah sì se non trovi nessuno sì però se sei ferito ti puoi svegliare sbagli lo skill check della cura ti svegli diciamo li vedo tutti i camper lì mamma mia tanto invisibile sì sì ma tanto sicuramente sai la cosa che più darà fastidio più che altro è la cosa che ti addormenterà e lo fa solo per scopo per vedere tu dove sei ma non è che ti viene cercato è come Cili è giusto per farmi i cazzi tua per vedere dove sei che stai facendo ma tanto campero il tizio sul gancio quindi però è un camperaggio diverso perché tu comunque mi devi riaddormentare per colpirmi fine sì non è come il ciccio il ciccio motosega insidioso che non puoi fare un cazzo sì anche tu pensi che la gente sarà insidioso sul cosa pensi veramente non ha senso non ha senso sulla cacciatrice la cacciatrice canta e poi senti il battito l'insidioso ti leva solo il battito non ti leva il canto non ci stanno i cacciatrici che usano l'insidioso e senti cantare comunque non c'è guarda lo so che sei lì canti stessa cosa sarà sto killer insidioso fra senti la canzoncina oh lo so che stai qua proprio pure 200 insidiosi è quello più che altro che fa sbellicata le risate insidioso sulla cacciatrice insidioso sulla cacciatrice penso sia il perk più inutile del mondo proprio perché le canta e quindi è inutile che è successo ho premuto il triangolo post si era buggata la lobby avevo previsto guarda si vedeva l'andazzo com'era si si vedeva l'andazzo com'era non funzionava non fungeva qualcosa viene trasmesso solo l'audio del microfono va bene bubino ma che tu stai streamando se a casa dove sta Stavo facendo una cosa Com'è? Com'è? Eh zio Com'è? Personaggia 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 Già Bubino Bubino Io non capisco Sta cosa di Twitch Ogni turno ti dice Che c'hai tre spettatori live Però se vai a fare L'elenco degli spettatori Ti dice una persona C'è un po' Un po' Sono quelli Magari senza cano Ah ok Rosso Giallo Rosso fisso Così Non scende 2,46 2,46 Sia perde Addio 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 Io sono Il baggatore Faccio io Faccio io Penso io Pensa mio C'è Quella quest'altro Com'è il titolo della live Si ritorna sempre Dove si è stato bene Cazzo ne so Uno su LOL Si ritorna sempre dove si è stato bene Va bene Va bene Basta che si è stato bene Tutto bene Italiano Italiano Per favore Italiano No 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 Si è stato bene Porca puttana Teng 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 Tut 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 Tu 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 Si è stato bene Certo Lui si è stato bene Io si è stato bene Tu si è stato stato Si Stato 2 quanti black black coke black coke eeeh ok fiori? fiori inutili ho un'interna in descrizione ragazzo sta mmmmm non non ormai ti obbligo a fare tutti sti cazzo di totem si 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 ormai si è obbligatorio cioè è veramente obbligatorio è veramente obbligatorio come cosa un negozio squallido allora sto al pulmino giallo alle spalle del pulmino adesso è il bordo della mappa c'è un generator c'è un gamer post dov'è? ma mi viedeva se stavo qua eccolo speriamo che non è già vincenzo è incassato? si si è come no vuoi me adesso? vabbè? no tornato indietro frattempo faccio sto totem ho tirato la botta mi sembra che... ah no 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 ok che è a posto ma io ritorno qua si si arrivo arrivo ho fatto un totem nel frattempo che lui faceva i cazzi sua c'ha il perk l'ho preso maledizione ma fa culo facciamo maledizione ho preso lo skill check come si chiama sovraccarico ah ok ho preso quello ho sbagliato quell'altro questo l'ho ho tirato giù andiamo verso di là eh che cazzo fa? sta a seguire quello che sta a seguire quello secondo te c'è... no non c'è nella baracca perchè sta qua che basment è qua? forse no no taranna taranna ehm... ehm... ma ma... bravo black hawk ma ma... bravo black hawk tra l'altro un cazzo proprio è fatto molto ma l'altro si era curato penso che stia a fare un generatore da solo niente l'ha perso ha perso pure black hawk ma viene qua sicuro qua c'è un totem lo faccio oh è qua oh c'ho no lo prendo dove stai la grugialla tu? si si ma perde la gente oh l'ha colpito l'ha perso ma questo si è curato instant poi è finita dai vieni qua arrivo arrivo ma non ho capace l'altro insieme mi aveva siamo sicuro parla l'ho insieme è finita è finita no no non 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 va bene no questo è classico veramente per giocare che non appende nessuno fino a ora questo è classico che se piglia infatti non usa manco la moto sega non la usa questa la usa solo quando appende qualche cristiano sul viaggio la uscita è qua dietro ok non saprò io no io mai 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 arriva killer ecco lei porco dio questo è troppo tardi dimmi se c'è un po' di bene che fa adesso c'è no ed per colpire così c'è no ed cosa fa recupera ma scusa non volevo minchia già camper a terra quello così apposta no allontana di là assolutamente niente guarda non la stagione allora c'è la faccia negra ma che la cura la cura c'è la cura c'è la cura c'è A caso, a caso, dove passi? Eh, rip Madonna ragazzi Guarda, 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 a caso, va a caso Vaffanculo Dove stava l'altra uscita? Non lo so Sì, sì, acceniamo da sé Madonna 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 È ancora sotto il pallet Sì, sì Ah, si è rialzato Il posto Ma l'uscita è chiusa Guarda, avresti uscito Quella dove stava appeso Provo No, 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 no Ritorna qui No, 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 no No, stanno seguendo quello Ah, stanno seguendo quello Stanno seguendo quello Il giro Ah, fa fare infinito un po' Dai, dai, quasi aperto Tizia Vieni, vieni, aperto Aperto, aperto Vieni, tizia Andiamo Stunato Stunato Oddio Oddio Occhio Occhio Oddio 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 Sì, non la sai molto usare Se non appendi Niciuno Sorveglianza e sedizia È buono come perca Molto buono Sì, sì Sorveglianza e sedizia Sì, è molto buono come perca Ho visto usare anche il mandriano Con cili Cioè, da nulla Ti vedi Tu sei a dire Sì, sì Ti vedi il mandriano sulle spalle Tu vedi sul gruppone all'improvviso Cioè, cazzo Hello there Hello there Ho convinto che aveva Anche aveva no Puri era convinto di aveva no Per come si lasciava il generatore Era convinto proprio Ma per me il perk Quello là che dà il calcio al generatore È un perk che devi usare Esclusivamente sul dottore O sul dottore O su un mandriano O una Nars Perché È per la velocità di movimento È per il controllo della mappa Ma su killer come Questo Leatherface Trapper Spettro Secondo me Non c'ha senso È un perk in meno No, perché Per di tempo È un perk in meno Lo rincorro Non sto a darla a botta Cioè In tutta la partita Magari Do Due o tre botte C'è un perk Quando vado al generatore Con la motosega Non trovo nessuno E do la botta E do la botta Come fu il cancro Lì Si ricordi Mamma mia Mamma mia Ma fa ricorda quella partita Un'ora Un'ora Presenza inquietrante Presenza inquietrante È andato tutto Tutto a puttane Perché Si si Ha fatto riprendere Ha usato il mori Però se non metto Proconto Non partiamo Eh no Se fai Se fai il dare di turno No Tu Arrivo subito Non partiamo Non partiamo Qu farmers Hanno Cioè 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 Grazie. 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 Adio. Grazie. Buua, buua, buua. Grazie. Fra quale sei già nel reliquario? Tre giorni ancora. Non ce la faccio più a morto stecchito. Prendi 250.000 blood poi entro là. Io facevo morto stecchito, ma... No, io già ne ho presi due. Voglio prendere il terzo. Sto a 6.50. Molto stecchito costa 7.50. Sì, tranquillo proprio. Eh, io sto a 140. Tranquillamente proprio. Hello there. Hello there. No. Ancora entri. Ok. È quitto. Io quitto. Io quitto. Io quitto. Io quitto. Che coglione, oh. Che coglione, oh. Che coglione stichilla. Ti rinvito. Eh, chi me? Eh, chi me? Eh, chi me? Eh, chi me? Eh, tam, tam, tam. Bubino ma Stum non si collega più? Stum, ieri quando... Stavo giocando a FIFA ieri. All'una e me, quando abbiamo chiuso? All'una e mezzo. Ieri abbiamo chiuso verso l'una, sì, verso l'una e mezzo abbiamo chiuso ieri. Eh. Dopo 5 minuti mi scrive. Oh. Oh cosa? Ma che fra poco metto il dbd. Si è. Oh, eh. Io fra poco sto nel letto. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Svegliarsi un pochetti, oh mio. Ho fatto tutto il tempo su FIFA, guarda qua. No, è necessario che uno gioco un altro gioco? Eh, però, no, scrive a luna, luna, metto dbd. Eh. No, luna e' tardi, ciao, bar. Cioè, magari metti dbd e poi quando stacchiamo metti FIFA. Non ha senso, il contrario. Assolutamente no. Ce la famo a giocare? Chi lo sa. Ma quanto e' bello, vedi? Quanto e' bello sto nel lobby. L'hai visto? Stai contento subito. Eh. Perchè non ci sei tu? Perchè mi sta caricando questo figlio di puttana di gioco che si bugga in continuazione. Puttana madonna. Che coglioni. Non entri? No, ma sta facendo il caricamento infinito. Devo riabbire il gioco. Il problema e' che se riabbio il gioco si chiude la stream. Che palle ho, che palle. Si chiude la stream e poi la devo riaprire. Uffa, che coglioni, mamma mia. Uffa, che coglioni, mamma mia. Grazie. Grazie. Grazie.